Obiettivo Famiglia. Il progetto da culla in culla, nato da un'idea della Feder Casalinga di Pozzuoli, stenta a partire. Il progetto di recupero solidale di beni di prima necessità per l'infanzia e la primissima infanzia consiste nella raccolta di indumenti, giochi, pastiggini e tanto altro che possa intervenire come supporto alle famiglie che devono fronteggiare una spesa purtroppo esosa che si presenta alla nascita del bambino. Si tratta di una nuova forma di solidarietà verso le famiglie in stato di disagio economico che segue un principio di donazione di ciò che è necessario alla crescita dei piccoli. Il progetto inoltre permette di recuperare oggetti che una volta in disuso finirebbero nei cassonetti. L'iniziativa da culla in culla a una crescita solidale è stata presentata ufficialmente nel febbraio 2015 nei locali della Feder Casalinga a Monteruscello in via Lodi 16 dove l'associazione raccoglie i beni donati ma fino ad oggi pochissimi ne hanno approfittato. Se la nostra parte la stiamo cercando di fare nel miglior modo possibile cercando di essere disponibili per le mamme, per i bambini, per coloro che sono momentaneamente in difficoltà in questo momento cerchiamo adesso di farci conoscere e far sì che queste persone che devono ricevere, che sono pure donazioni, senza alcun contributo, senza niente, vengano a prendere queste cose. Nonostante l'indubbia utilità del progetto sociale, quindi l'iniziativa di Feder Casalinga e Comune di Pozzuoli ha incontrato non pochi intoppi dato che il materiale rimane lì nelle stanze dell'associazione senza che nessuno si presenti per il ritiro. Da allora noi abbiamo avuto costantemente i privati che ci sono venuti a portare materiale di vario genere, oltre i vestiti, i vestitini e quant'altro ma addirittura lettini, passeggini e anche si è messa a disposizione alcune case produttrici di alimenti per bambini. Addirittura adesso noi abbiamo prenotazioni di corredini per bambini che dovranno nascere quindi accettiamo anche queste prenotazioni, accettiamo anche la richiesta di cullette che noi faremo trovare sempre maschietto, femminuccio. Insomma, tutto questo lavoro avremmo piacere che fosse gradito alla cittadinanza e nella cittadinanza ne potesse soffrire. Si tratta probabilmente di una pubblicizzazione inadeguata del progetto ciò nonostante gli uffici della FederCasalingue continuano a ricevere anche prenotazioni per vestiario infantile senza che però avvenga poi il ritiro. L'associazione si augura che la situazione muti anche perché il progetto da culla in culla riesce a dare una risposta attente e attuale alla famiglia insieme alle amministrazioni pubbliche come spazio di cura e di tutela. Molto spesso i servizi sono sorpassati rispetto alle richieste. In questo caso si sollecitano le famiglie ad attivarsi per non perdere una disponibilità e per non far fallire un progetto sociale di notevole importanza. Possono venire a prendersi nella nostra sede a Via Lodi numero 16 a Monte Ruscello ma io ho pensato e la dottoressa Stellato mi ha dato l'assenso di creare un negozietto ambulante un negozietto ambulante nel senso più carino della parola dedicato ai bambini un negozietto che verrà messo a Piazza Severini due volte al mese. È nella consapevolezza dell'importanza del compito sociale che viene richiesta un'attenzione per questa iniziativa che nasce da un grande impegno che mira il sostegno economico laddove per condurre la famiglia si incontrano problemi ed è per questo che la Feder Casalinghe con l'amministrazione puteolana ha avviato il progetto per aiutare nello sgravio economico chi alla nascita del bambino necessita di un sostegno.